Io ringrazio davvero tutte e tutti per essere state qui, ringrazio soprattutto Serena, Sara per queste bellissime immagini e vi chiederei ancora una cosa, abbiamo iniziato dicendo che ricordare Anna in questo luogo è molto bello, Anna ha meritato sicuramente questi altri, stata una cittadina esentale di questa città, però questo è ancora un privilegio per pochi, vi preghiamo se ne avete voglia uscendo di fermare un ampello perché si è creato in città un luogo per il ricordo largo che sia un luogo degno per il saluto e per il ricordo che tutte e tutti i cittadini metteranno. Grazie di essere stati qui e adesso mi auguro e direi a pensare a Anna.